Hai voglia di un dolce facile pronto in 15 minuti? Allora fermati qui perché oggi ti propongo la ricetta della torta furba all'ananas, è golosissima, dai vieni in cucina insieme a me. Per prima cosa monto gli albumi a neve ben ferma con un pizzico di sale, mettili da parte, in un'altra ciotola versa i tuorli, aggiungi lo zucchero e i semi di una bacca di vaniglia e inizi a montare il tutto con le fruste elettriche. Aggiungi anche la farina e continua a mescolare fino ad ottenere un composto denso e omogeneo. In ultimo aggiungi gli albumi montati a neve e mescola delicatamente con una spatola dal basso verso l'alto per non smontarli. Versa il composto ottenuto in una leccarda di misura 30x30 cm in fodera di carta forno e livella bene il composto. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo prepara la crema pasticcera con gli ingredienti indicati in descrizione, fai scaldare il latte con la bacca di vaniglia e prepara la pastella. Quando è pronta, versala nel latte caldo e mescola continuamente fino a che la crema non si sarà ben addensata. Mettila da parte e lasciala raffreddare. Riprendi la base e dividila in quattro parti uguali. Prendi un piatto da portata, sistema la prima parte di pasta a biscotto e farciscila con la crema pasticcera. Aggiungi l'ananas sciroppato tagliato a cubetti e prosegui in questo modo fino all'esaurimento degli ingredienti. Completa la torta con dello zucchero a velo e delle fette di ananas sciroppato. Eccola pronta! Ti è piaciuta? Lasciami un commento!